Siamo al terzo allenatore e come mi sembra logico, questa è un'annata che le responsabilità delle società sono evidenti per le difficoltà che ha la squadra, quindi abitare un allenatore o un altro rispetto al problema mi sembra ingeneroso perché poi di fatto uno potrebbe anche poi di fatto, è la società se sbaglia un allenatore a non aver individuato colui che magari potesse guidare questo gruppo diciamo così verso risultati migliori di quelli che si stava avendo fino ad oggi. Credo che come avevo detto diciamo a Natale, l'ho un pochino accennato, però poi magari avevo il timore di togliere energia a tutti, che la responsabilità maggiore, l'ho detto anche in mese quando ci siamo parlati, è quella di inseguire un tipo di calcio che ci ha regalato grande soddisfazione sotto tutto il punto di vista, che forse mi sembra 7 anni, 8 anni, questo sarebbe stato l'ottavo anno, ecco, ci ha regalato successi anche magari diciamo neanche impensabili per una realtà piccola come la nostra e giocatori importanti che giocano in squadre importanti, però inseguire quell'idea lì secondo me ci ha portato oggi a farci del male, perché ritengo che sia diventato un calcio l'aggettivo migliore mi sembra prevedibile, rispetto a quelle poi ovviamente le difficoltà che oggi gli avversari sanno sempre più farti trovare. Poi con questo posso anche dire, che metto un po' di pressione al mister, che la maggior parte dei giocatori, per quello si conosce noi o voi, hanno reso al di sotto delle loro possibilità, non la maggior parte, quindi ci siamo rivolti a una guida diciamo esperta, che ha conoscenza della categoria, per trovare, perché poi il passaggio è una quadratura di squadra, c'è un'espressione di organizzazione e poi di conseguenza anche un rendimento da parte di tutto il gruppo adeguato alle loro qualità. in tutto questo, quando succede annate di questo genere, chi comanda? Cioè sono io e mi sento proprio rimbischierito, ecco, cioè perché poi bene o male era responsabilità mia, perché poi le scelte le ho sempre avvallate io e probabilmente siamo sempre stati abituati a centrarle la maggior parte e ora ovviamente non mi vorrei in questo momento mortificare oppure accettare diciamo troppa negatività sulla situazione, anche perché voglio dire oggi penso di poter dire che abbiamo un gruppo forte e un allenatore che sono certo lo guiderà nella maniera giusta, ecco, in questa seconda parte della stagione. Non c'è molto tempo, però insomma ce n'è abbastanza per fare meglio e per fare bene. Io non ho da teatro, forse mi volete fare una domanda e vi rispondo. Allora, iniziamo con le domande. Buongiorno mister, ben arrivato a Tempoli, Alessio Cocchi per il Tempoli.it. Ci possiamo parlare del tuo intanto? Sì. Ok, ti chiedo, visto che hai già fatto un paio di allenamenti, che squadra hai trovato da un punto di vista, che gruppo, da un punto di vista sia mentale che fisico e magari quali sono le primissime cose dove sei andato a lavorare e poi ti chiedo anche cosa ti ha chiesto la società, perché questo è importante anche per tracciare il cammino e per capire un po' anche dove orientarsi. Al Presidente invece vorrei chiedere se si poteva ottimizzare meglio una pausa. Cioè, abbiamo dato due partiti in più a Roberto Muzzi per poi esonerarlo perché i limiti dovete c'erano. Era necessario quelle due gare in più per capire che comunque certe cose non sarebbero andate a posto? Grazie. Ora, io rispondo anche per il misto. Ora il misto gli si chiede innanzitutto di, se si parla di obiettivi, di uscire da quella situazione diciamo di classifica e poi speriamo poi di affrontare la primavera con idee diverse. Però ora la cosa urgente è quella. Per quanto riguarda il discorso dell'allenatore, noi le ultime due partite con la Svernetana e con il Livorno, secondo me, la squadra ha espresso due buone gare che avrebbe meritato sicuramente di vincere. In mezzo c'era questa partita di Cosenza interpretata male, però di fatto insomma lì abbiamo perso anche per episodi che non li voglio neanche mettere, evidenziare, ma la squadra insomma quando le stagioni vanno male c'è anche tutta una serie di errori collaterali che hanno penalizzato in questo ultimo frangente. E mi riferisco a Cosenza, Livorno, anche a Castellammare, insomma per non parlare l'ultima partita, però vorrei che non li nominassi questa ultima mia... semmai, voglio dire, durante la sosta si doveva riempire la benzina e servatoio, probabilmente si è riempito bene, ma questa prestazione, diciamo così, di Castellammare ci ha trovato veramente impreparati, tanto più che anche l'espressione della squadra è stata completamente diversa dall'impressione che c'era una crescita e invece non c'è stata, però poi uno può giocare, può pensare a troppe cose, ho impresso che ci abbiamo messo 8 o 9 giocatori negli ultimi 20 giorni, ci sono tante cose da... ma ora, inoltre, da evidenziare gli aspetti negativi che ci hanno accompagnato in questa... oppure trovare alibi al Presidente, cioè il Presidente alibi non ce n'ha, perché, ripeto, da come ho iniziato il discorso, se una società cambia tre allenatori, non è riconducibile il problema agli allenatori. Quindi, ora, niente, è il momento di voltare pagina. Sinceramente, se vi devo dire come mi sento, mi sono sentito che non ho... insomma, mi sono sentito, ovviamente, mettendomi molto in discussione, dal momento che è arrivato il mister, ci ho fatto una settimana di... mentre una settimana di chiacchiere e ho visto allenarlo, io, personalmente, mi sento molto rinfrancato dalla sua presenza, perché probabilmente anche il bagaglio che l'accompagna, anche di esperienza, ho visto il lavoro sul campo, come è la mia abitudine. Penso sia una squadra che ha una certa consistenza, che è passata attraverso dei problemi di gioia d'andata, che ora, insomma, mi sembrerebbe non li avesse. Ecco, per cui tutte queste cose mi fanno sentire molto fiducioso. Ecco, però, insomma, poi c'è il campo. Ecco, non sono... Prego, miste. Io ho trovato un gruppo, secondo me, voglioso di intraprendere una strada diversa, perché sanno che hanno delle qualità. Se sono arrivate a Empoli significa che sono giocatori di valore e purtroppo quando ci sono periodi negativi il morale sicuramente incide nelle prestazioni, per cui è il momento di voltare pagina, perché hanno... ho trovato un gruppo che si allena bene, che ha la cultura del lavoro. Sicuramente chi mi ha preceduto ha lavorato bene sotto tutti punti di vista. Non sono arrivati i risultati, però sono periodi che possono accadere. Adesso si guarda avanti e a partire da sabato cerchiamo di dare un ritmo importante, perché nel campionato di Serie B sappiamo tutti, se hai qualità e non metti dentro l'intensità in queste partite, la qualità non emerge, per cui c'è da lavorare, come hanno fatto i miei predecessori, sperando di trovare le soluzioni migliori per fare sicuramente un girone di ritorno diverso. Ma per primo input che hai dato, qual è? Uno cerca di dare, in pratica quello che ho detto, di lavorare sempre ad alta intensità e di dare un'idea di gioco da sviluppare nelle prossime partite. Quando iniziano a cercare una squadra propositiva, una squadra di qualità e soprattutto trovare gli equilibri giusti, perché è normale che bisogna trovare, attaccare sempre in maniera equilibrata, non in maniera scriteriale, ecco, per cui bisogna trovare le distanze tra i reparti bene, insomma, ci vuole molta attenzione ed è chiaro che i ragazzi devono alzare la testa, ecco, perché le difficoltà aiutano anche a crescere, perché devono reagire dal punto di vista caratteriale, oltre che di altre cose, per cui vedo come stanno lavorando e stanno cercando di assimilare tutto quello che gli viene proposto e speriamo che ce la facciamo nel più breve tempo possibile. Sabeviste Tommaso Carmignani, la Nazione e Radio Lady, io voglio chiedere lei, è un allenatore insomma la sua carriera, parla chiaro, sua storia, parla chiaro, ha un gioco ben definito, la sua squadra è sempre avuto un'identità molto molto forte e poi in frate, a questo tempo gli è mancato fin dall'inizio del campionato, abbiamo sempre fatto capire come voleva giocare questa squadra. Lei però arriva a febbraio, quindi magari il suo compito non sia semplicissimo, credo se le preoccupa un po' comunque il fatto che non c'è molto tempo per far assimilare la squadra a certi concetti, un conto di iniziare l'estate, arrivare magari a ottobre, novembre, un conto di arrivare a febbraio, la preoccupa un po' questo poco tempo. Avere a che fare con ragazzi intelligenti che hanno giocato in diverse squadre con svariati sistemi di gioco non credo che uno ci si intendi niente, per cui credo è normale a tutti gli allenatori piacerebbe iniziare dal ritiro e con i concetti di base lavorare in maniera graduale per arrivare a determinati obiettivi tattici, però non è questo un problema perché si può risolvere, bisogna trovare prima possibile questo perché le squadre per arrivare a fare i risultati bisogna avere un gioco, un'identità. A volte sento dire basta col gioco, col bel gioco, adesso ci interessano i risultati, io penso che per arrivare ai risultati bisogna giocare perché se non hai un'identità ben definita poi ti può andare bene in un anno qualche partita, quattro, cinque, sei, che giochi in una certa maniera ma poi i limiti vengono fuori, per cui secondo me l'organizzazione di gioco aiuta anche la crescita del singolo perché se cominciamo a inculcare ai ragazzi delle giocate predeterminate sicuramente si deve arrivare al punto che tra loro stessi sanno come muove, se nessuno si può nascondere se la palla brucia perché sanno che se sviluppiamo un certo tipo di gioco anche i compagni imparano a sapere che ci deve essere un altro collega in una certa posizione quando fa determinate giocate, quindi col lavoro si arriva a trovare questi automatismi, la ripetitività del gesto aiuta a questo e noi lavoriamo per ottenere la prima possibile, abbiamo fatto qualche allenamento in più su queste basi che uno vuole inquilcare. Le risposte sono positive, è chiaro non è che arrivi e metti dentro mille concetti perché poi si fa un po' di confusione, dobbiamo solo semplificare le cose, renderle più facili possibile, anche perché proprio per il momento non stanno arrivando i risultati, è normale che dobbiamo dare serenità senza cercare situazioni un pochettino troppo ingarbugliate, quindi dobbiamo cercare di lavorare in maniera serena e sulla semplicità. Buonasera mister Davide Zizio del Tirreno, mi hanno colpito un paio di cose che l'hanno accompagnato, cioè il fatto che lei abbia voluto sei mesi di contratto, sono proprio chiesti da lei o perlomeno si è emerso e che non abbia parlato dei soldi, almeno nel primo incontro che ha avuto la società. E poi mi sembra abbastanza scontato anche per quello che abbiamo visto questi tre giorni, però giusto per chiarire definitivamente questo abito di semplicità che intende cucina a posto è in 4, 3, 3 mi sembra. Se io a volte non sono tanto i numeri, io non bisogna trovare, magari stiamo lavorando su questo, lavoreremo su altri sistemi di gioco, uno deve trovare l'abito giusto che è adatto per il materiale che abbiamo, si lavora sul 4, 3, si può giocare in maniera diversa. Credo che questa squadra sia stata costruita per fare un 4 e un 3, poi davanti uno può fare 4, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1, sono numeri che lasciano il tempo che trovano, che a noi allenatori piace dare i numeri e quindi certe volte non servono, è la mentalità che conta, la mentalità di giocare in maniera propositiva, di sacrificarsi nelle due fasi, perché non possiamo giocare con tre attaccanti se poi non si sacrificano, significa che dai dei vantaggi quando non sei in possesso di pallo agli avversari, per cui da questo punto di vista dobbiamo cercare determinate situazioni che calzano a pennello con l'organico che c'è ad Empoli. Io dico che proprio per questo tipo di organico, per la varietà delle scelte che ci sono, si può fare qualsiasi cosa. E per quanto riguarda il fatto del contratto, non ho chiesto soldi perché ne ho tantissimi. Sto scherzando chiaramente, il problema secondo me è, ho chiesto di lavorare, di firmare per cinque mesi perché mi sembra una cosa logica, perché è giusto che uno si faccia apprezzare col lavoro, se ci riesce bene, se si guarda avanti non si deve essere il legame del contratto, poi alla fine uno, se ci troviamo bene entrambi, se si fa un buon lavoro, si può andare avanti altrimenti non ci deve essere il legame di un contratto a determinare per quanto ci riguarda delle scelte. Anche perché secondo me è giusto che una società quando cambia a un certo punto del campionato ci sono determinate scelte, quando finisce il campionato magari ce ne sono il doppio e quindi la scelta deve essere fonderata e ho pensato semplicemente di lavorare, di farmi conoscere e poi alla fine si decide. O magari pure fra un mese, se andiamo un mese, si può parlare, non è io sono qui, io devo far bene per andare via. Mi piacerebbe continuare, iniziare un ciclo, però ripeto, per me il contratto non è una cosa importante, tanto si fanno, si rescindono, è quello il problema. Simone Galli, Caneta Empoli, il mondo sportivo. Volevo chiedere come ha trovato la squadra dal punto di vista atletico, perché un po' di quelle cose si dicevano, sia nella gestione Bucchi e nella gestione Muzzi, almeno qualcuno diceva, dal punto di vista atletico mancava qualcosina, non so come l'ha trovata. Abbastanza bene, probabilmente chi guarda da fuori in certe occasioni, magari nelle ultime partite, se c'è stato qualche pressione non è è stata sicuramente da debitare al tipo di lavoro, ma semplicemente perché in organico sono arrivati i giocatori che non hanno giocato ultimamente spesso, per cui non hanno i ritmi a partita per 90 minuti, quindi qualche pressione ci può stare, per cui da questo punto di vista i ragazzi vedo abbiano lavorato abbastanza bene. Le risposte che ho avuto sono state, poi chiedo fino all'allenamento a tanti ragazzi come stanno, se lavorano e se sono particolarmente stanchi, invece stanno partecipando bene, facendo tutto quello che proponiamo in maniera naturale, senza che ci sono stanchezze particolari. Buongiorno mister, buongiorno presidente, Andrea Mastriberti, Radio Brumo. Intanto presidente le vorrei chiedere se è rimasto deluso anche da qualche calciatore, che magari lei che vede tutte le partite, magari qualcuno l'ha delusa particolarmente in questa prima sessione di campionato e al mister vorrei chiedere un problema grosso, ne ha già un po' parlato, però sembra essere il centrocampo, non c'è un grande fluido dalla difesa all'attacco, molto spesso non c'è una manovra fluida, come si riesce a migliorare in questo aspetto? Io credo col lavoro si arriva a tutto, perché i giocatori di qualità ci sono, per cui ripeto fa parte di quello che ho detto, cercare di arrivare a fare una manovra che siano coinvolti tutti a partire da dietro ai difensori, perché sicuramente aiuta la crescita del singolo, quindi col lavoro ci riusciremo, dobbiamo dare dei concetti di base che i ragazzi credo che piace avere il pallino del gioco in mano, per farlo bisogna smarcarsi, bisogna proporsi e cercare di fare i movimenti coordinati, non fare le giocate singole, cercare di lavorare sulle catene se giochiamo con i tre davanti, con il 4 del 3, è una cosa importante per dare ampiezza a fase offensiva, per cercare di avere gli spazi giusti per morsi, è chiaro che quando dicevo che bisogna dare la serenità è anche questa, cercare di giocare in ampiezza per far sì, visto che la palla magari può essere in certi frangenti più pesante per questi momenti di difficoltà che ci sono, avere anche la facilità di stoppare la palla, avere un momento che c'è meno pressione, così allarghi bene il gioco, se fai dei movimenti preparati per determinare. Buongiorno, mi chiamo Franca Sciari, scrivo per nuove da Firenze e dal Vieta Toscana, mi volevo dire questo, è una domanda che avrebbe fatta a chiunque al suo posto, cos'è che c'è qualcosa di particolare perché lei ha accettato l'incarico dell'Empire? Sarebbe facile, non mi voleva nessuno, non mi stava accanto, devo dire, a parte le battute, io in questi mesi, a parte la prima squadra che avevo firmato per il Palermo e poi sappiamo che è finita, qualche proposta di lavoro l'ho avuta, come dicevo prima per me accettare significa trovare un ambiente dove capisco che si può fare calcio, che ci può essere futuro, che si può lavorare in maniera organizzata perché mi piace ritrovare anche nell'organizzazione gli stimoli importanti per fare bene, per cui l'Empoli è una squadra che in B, secondo me sta stretta per quello che è stato fatto negli ultimi anni, di conseguenza a me e poi dico la verità, con l'organico che ha l'Empoli sono stato stimolato perché è l'utile a nasconderci e abbiamo una squadra forte, quindi da questo punto di vista credo che è stata una scelta semplice, perciò come dicevate prima non è, per me era un problema di contratto, il problema era trovare una squadra che mi permettesse col valore del giocatore di esprimere quelle che possono essere o che sono le mie idee, questo entrava nei parametri che ha l'Empoli e quindi ho accettato volentieri. Volevo chiedere al Presidente Corsi, come viene vissuto questo momento nell'ambito della società? Per quanto mi riguarda, sinceramente non sono più abituato, ho avuto modo di scambiare delle battute con questi ragazzi che hanno accompagnato la mia esperienza da tanti anni, quindi ci è capitato momenti difficili e magari andare a ricercarli mentalmente forse non ci aiuta neanche granché, però era un po' di tempo, forse in generale ci trovo un po' impreparati tutti, voi, noi, il nostro pubblico, per cui ora e voi state a creare un clima da battaglia e ovviamente trovare una padratura di squadra, uno sviluppo di gioco adeguato alla qualità dei giocatori e venirne fuori, però sinceramente per quanto mi riguarda non mi godo neanche tanto i momenti di grande euforia perché so che il calcio nel breve di pochi mesi si ribalta tutto e quindi cerco sempre di avere un certo equilibrio, però non nascondo che questi mesi mi hanno accompagnato con un certo senso di angoscia e ora mi sembra sinceramente mi abbia abbandonato, ora prevale la fiducia e una forma di ottimismo per i motivi che vi ho spiegato sopra, però insomma ora c'è solamente da affrontare gara dopo gara e accompagnare la squadra nel miglior modo possibile, questo vale per voi ma vale anche per noi, ecco dirigenti perché ovviamente insomma c'è da dare il meglio, il meglio di noi stessi, ecco questo me lo dico per me. Sì Alessandro Armugi, Radio Lenni, buonasera mister, benvenuto, le chiedo una costante di questa squadra quest'anno è stata quella di non saper gestire la partita, di abbassarsi spesso di schiacciarsi, di essere intimorita, come si lavora su questo? Attraverso il gioco poi il gioco che dà la fiducia alla squadra, oltre ai risultati, va che quello è banale e poi una domanda anche per il presidente, chiedevo insomma cosa dobbiamo aspettarci dal mercato in queste ultime ore se parecchio uscite illustri, illustri anche magari, visto che non lo so, però sono giorni decisivi, vi ho detto prima, prima ho fatto una domanda, cioè se una società arriva a gennaio e mette dentro 8 o 9 giocatori nuovi, probabilmente non siamo in una situazione di grande felicità rispetto al rendimento della squadra, quindi 8 o 9 sono arrivati, 5 o 6 sono andati e due ragazzi sono andati in primavera perché ovviamente siamo trovati anche un po' scoperti, però ora parlo in attacco, le alternative sono, insomma ci sono anche perché mi sembrerebbe che è stato un infortuno secondo me decisivo, però mi sembrerebbe che nel breve possa rientrare al gruppo, una cosa la sapremo una prossima settimana, però indubbiamente ora c'è da vedere quello che succede, la cosa un po' anomala che poi anche i giocatori che hanno dato non il meglio di sé ci hanno chiesti in Serie A e questo magari bisogna ci porti anche delle domande a noi perché probabilmente non siamo stati capaci di farli rendere se è un doloroso, perché sinceramente ci sono 3 o 4 che non si hanno, ma ce l'avevano presi. Qual era la domanda? No, sull'atteggiamento della squadra e spesso insomma... No, sto scherzando, dicevo che quando ci sono momenti di difficoltà comincia a subentrare anche l'ansia di portare a termine i risultati, a volte incosciamente ci si abbassa, poi ci sono anche gli avversari che se chiaramente passano in svantaggio cominciano attaccare con più veemenza e quindi con più frequenza per cui ci sono episodi che a volte ti condannano al di là dell'atteggiamento perché ripeto, quando ci sono questi momenti le difficoltà emergono e anche a volte basta un pizzico di fortuna in qualche partita per far cambiare una stagione, quindi secondo me è sempre un problema psicologico e del momento ecco perché questi ragazzi hanno l'obiettivo di migliorarsi perché sono convinto che chi non ha reso secondo le previsioni ne è primo consapevole, insomma si riescono loro stessi a giudicarsi, non sono ragazzi intelligenti, sono ragazzi che si riguardano le partite, si riguardano le prestazioni, quindi sicuramente sanno che devono migliorare, che devono fare tutti qualcosa in più, che dobbiamo fare tutti qualcosa in più per cercare di avere una continuità di gioco che è quella che porta ai risultati. Buonasera Mister, Gabriele Costella, Radio Bruno e Gruppo 50, le chiedo, sicuramente lei avrà osservato il campionato molto attentamente da fuori, che idea si è fatto di questo campionato di Serie B molto particolare, una squadra che è fuggita via e poi molte raccolte in pochi conti? Sì, a parte il benevento credo che il campionato sia aperto a tutti quelli che stanno eseguendo nelle primissime posizioni, il Crotone per esempio è una squadra che secondo me nell'ultimo periodo, a parte l'ultima sconfitta, ha espresso un ottimo calcio e quindi sta lì meritatamente, il Pordenone è una sorpresa e anche loro hanno subito una battuta d'arresta, testimonianza che c'è molto equilibrio, non ci sono gare scontate, quindi questo equilibrio consente di fare, diciamo così, di avere tante squadre, di avere speranza di arrivare a raggiungere le prime otto posizioni, quindi perché la classifica è abbastanza corta, per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, sono abituato a guardare la prossima partita e non oltre perché insomma abbiamo una certa età, capelli bianchi, non riusciamo ad andare oltre una settimana e quindi pensiamo di partita in partita, adesso l'obiettivo è sabato e poi di ragionare con questa testa perché non si deve neanche guardare la classifica in questo momento, ma guardare semplicemente l'avversario che arriva sabato e poi per pensare di partire in partita in partita agli altri. Buonasera Presidente, buonasera Mister, Maurizio Zini, Telecentro 2, trasmissione Pianeta B. Mi collego proprio sull'ultimo inciso che ha fatto, ovvero la partita di sabato. Incontriamo un Crotone che è stato sconfitto in casa dallo Spezia, che Empoli troveremo? Il suo Empoli. Pensiamo che dobbiamo portare il lavoro che abbiamo fatto, la voglia di ripartire, di mettere alle spalle tutto quello che è stato, cambiando anche l'allenatore, credo che questo sia una cosa che si deve fare, quindi di avere uno stimolo in più perché certamente sicuramente le responsabilità sono di tutti e i ragazzi sono consapevoli di questo, che devono fare qualcosa in più e di portare ogni partita a quello che si prepara in settimana. L'obiettivo è quello di cercare di fare una partita intensa, una partita con spirito di sacrificio, di umiltà, di lottare su ogni pallone, di cercare di arrivare prima su ogni pallone e poi la mentalità deve essere quella, dobbiamo toglierci le paure del momento, diciamo così, perché se uno ha uno spartito lo deve portare sempre avanti a prescindere dal risultato perché se devi giocare devi pensare solo a fare quello che sai fare e ripeto, poi se mancano 5 minuti e butti via qualche pallone è un discorso, ma se uno fa gol dopo 10 minuti pensa di portare a termine il risultato, rinunciando a quelle che sono le qualità che ci sono in questa squadra, diventa un pochettino più complicato, quindi dobbiamo toglierci dalla testa cattivi pensieri e pensare positivo, pensare di fare quello che proviamo, ma quello che sono abituato a fare, perché io non chiedo cose che non si possono ottenere, chiedo quello che sanno fare ognuno di questi ragazzi che ci sono in organica. Carlo Salvatore, consigliere del Lussi Toscana, la rosa ampia è sempre un vantaggio? Sì, per noi allenatori sì, magari per il Presidente un po' meno che costano di più, però per noi preferisco avere problemi di abbondanza che non viceversa, perché io credo che la competizione giusta, non in maniera esagerata, aiuti la crescita, perché se ci sono soltanto 13-14 che si possono definire tra virgolette titolari, non c'è crescita, perché magari se c'è troppa differenza qualcosa in più, incosciamente non la danno, se invece all'interno del gruppo c'è tanta competizione, la competizione sana che ci deve essere aiuta la crescita, ma soprattutto anche negli allenamenti, perché se ci sono tanti ragazzi che non hanno determinate caratteristiche anche gli allenamenti perdono di qualità, così come se siamo in tanti è normale che gli allenamenti diventano un po' più dispersivi, quindi se tu vuoi arrivare a fare un tipo di calcio a intensità elevata, quello che si fa in settimana si porta in partita, per cui bisogna trovare gli equilibri giusti, l'ideale sarebbe avere due ragazzi per ruolo, anche se magari non 22 sullo stesso livello, se c'è qualche differenza in qualche ruolo non è un problema, però secondo me il 22 titolare è il numero giusto.